Il distretto Tessile punta sui manager della sostenibilità, presentati i risultati del progetto di Confindustria. In aumento le richieste di aiuto al telefono amico che cerca nuovi volontari anche a Prato. La camerata dedica l'ultimo concerto alla Croce Rossa sul palco la giovane pianista Beatrice De Maria. Buongiorno e benvenuti alla telegiornale del giorno. Sono stati presentati i risultati del progetto pilota, il manager della sostenibilità nel distretto Tessile Pratese, un progetto che ha coinvolto sei aziende del territorio sui temi dello sviluppo sostenibile e della crescita economica. Rafforzare lo sviluppo sostenibile delle imprese e favorirne la crescita economica e finanziaria. Erano questi gli obiettivi del progetto il manager della sostenibilità nel distretto Tessile Pratese, pensato da Confindustria Toscana Nord e Federmanager Toscana col supporto di For Manager. Il progetto è stato molto interessante perché da una parte la sfida di poter coniugare le tematiche ESG, quindi la sostenibilità nel distretto Tessile Pratese dove sono presenti piccole e medie imprese era particolarmente importante. Dall'altro il risultato è stato molto interessante perché si è visto che tante buone pratiche, tante operatività anche quotidiane hanno dimostrato la possibilità di poterle inquadrare con gli strumenti adatti in un percorso che sia realmente sostenibile. Il progetto ha coinvolto sei imprese Tessile e sette manager. Per quello che mi riguarda anche nella mia impresa ho avuto un manager e abbiamo rivalutato i rapporti della nostra filiera produttiva, fatto un progetto di sostenibilità integrata dove andiamo a rivedere anche la parte dei consumi insieme, andiamo a rivedere anche una tracciabilità dei rifiuti, degli scarti per avere una responsabilizzazione di tutta la filiera su dei progetti di sostenibilità. Altro elemento è quello dell'energia sostenibile, fare progetti integrati per avere anche piani energetici coordinati insieme. Adesso la cronaca è stato arrestato in aggravamento di misura cautelare. Il 25enne marocchino resosi responsabile negli scorsi mesi di diversi reati contro il patrimonio e la persona, tra cui rapine spaccate in danno di negozi con tombini prelevati dalla sede stradale. L'uomo, colpito ad aprile anche dal provvedimento di prevenzione del DACUR, emesso dal questore De Lorenzo, è stato trovato ieri mattina all'alba in piazza San Francesco con una pistola salve priva di tappo rosso dai militari dell'esercito di battugliamento in centro. In seguito a quest'ultimo episodio, oltre alla denuncia per porto abusivo di armi, per lui si sono aperte le porte della dogaia. Il divieto di dimora a cui era sottoposto è stato infatti sostituito dalla custodia cautelare in carcere emessa dall'autorità giudiziaria ed eseguita dalla polizia che lo ha rintracciato in Viale Vittorio Veneto. Il 25enne è stato così tradotto nel carcere di Prato. Crescono le richieste di aiuto al telefono amico nel 2023. In Italia sono state circa 300 al giorno. A Prato il servizio è gestito dalla sezione femminile della misericordia e l'organizzazione cerca adesso nuovi volontari. Sono state quasi 115.000 le richieste di aiuto ricevute nel 2023 da Telefono Amico Italia, oltre 300 al giorno. La maggior parte delle persone ha chiesto aiuto utilizzando il servizio di ascolto telefonico con oltre 100.000 chiamate nell'ultimo anno, ma sono aumentati anche del 14% i contatti via WhatsApp e del 10% quelli via mail, soprattutto tra i giovani. A dirlo la già presidente del Telefono Amico Italia, Monica Petra, in visita in città. A Prato è infatti presente l'unico centro locale della Toscana di Telefono Amico gestito dalla sezione femminile della misericordia di Prato, centro che nel 2023 ha gestito circa 5.000 telefonate. È importante appunto per quanto riguarda il nostro servizio sempre una conoscenza di quelle che sono le tematiche di ogni tipo a livello relativo alle persone che chiamano. Negli ultimi anni il dato è enormemente in crescita. Quali sono le principali richieste di aiuto che vengono fatte? Il primo grande gruppo che è un po' trasversale a tutti ed è quello relativo all'area del sé, quindi le tematiche, le problematiche, le difficoltà che ognuno vive per se stesso. sostanzialmente la risposta alla domanda come stai, quel bene o male o malino che in alcuni casi è domanda esistenziale, in altri casi è solitudine o altri tipi di difficoltà personale. L'altro grande tema soprattutto fra le giovani generazioni è il tema delle relazioni e quindi relazioni presenti oppure delle relazioni assenti, il tema dell'isolamento, dell'emarginazione. Un servizio importante è quello del Telefono Amico che si impegna a dare ascolto a coloro che si trovano in stato di crisi o di emergenza emozionale in qualunque momento e in modo gratuito. L'attività è resa possibile grazie al supporto di circa 600 volontari dislocati su tutto il territorio nazionale, ma per fronteggiare l'importante aumento delle richieste di aiuto l'organizzazione cerca nuovi volontari. Telefono Amico Italia è un'associazione composta esclusivamente da volontari, non riceve nessun tipo di supporto dall'esterno e quindi per poter offrire ascolto abbiamo bisogno di avere anche volontari. In questo momento diciamo che siamo a metà dell'organico, avremo bisogno di raddoppiare il numero. Produzione sostenibile degli indumenti, diritti dei lavoratori e dell'ambiente, responsabilità e ruolo attivo dei consumatori. Di questo si è parlato all'iniziativa promossa dal gruppo diocesano dei nuovi stilli di vita, ospite dell'incontro Deborah Lucchetti, coordinatrice nazionale della campagna Abiti Puliti. La moda poi è uno dei settori più inquinanti al mondo, usa materie prime vergini, inquina i grandi corsi d'acqua, usa tantissima acqua che potrebbe essere utilizzata invece per usi potabili e per i bisogni primari delle persone. La moda produce milioni di capi e poi anche di rifiuti, parliamo di tonnellate e tonnellate di rifiuti che ogni anno vengono poi dismessi e vanno magari a nutrire le grandi discariche a cielo aperto che sono ovviamente collocate lontane da noi. Il consumatore cosa può fare per contrastare, per combattere tutto questo? Uno dei grossi problemi della moda è proprio il fatto che si comprano tantissimi prodotti da fast fashion per esempio che durano poco, che non servono e che noi teniamo negli armadi per mesi o per anni inutilizzati per poi buttarli via, quindi dobbiamo comprare molto di meno e comprare meglio e quindi informarci sulla catena produttiva, su quello che si nasconde dietro gli abiti che vogliamo comprare, sostenere le campagne come la nostra che fanno un lavoro importantissimo di denuncia ma anche di proposta per modificare, per cambiare l'industria della moda verso una maggiore sostenibilità sia ambientale che sociale. Come si fa a capire se dietro un abito o un indumento c'è il rispetto dei diritti umani, dei diritti dei lavoratori e dei diritti dell'ambiente? I marchi dovrebbero dichiarare pubblicamente tutti i componenti della propria catena produttiva. A quel punto è fondamentale capire se nelle fabbriche dove i vestiti vengono confezionati per esempio esistono dei sindacati e i lavoratori sono liberi di organizzarsi. Certamente non le certificazioni che vengono fatte da enti commerciali, molto spesso pagati dalle stesse imprese, per dirci che un prodotto è fatto rispettando gli standard sociali o ambientali. Non è sufficiente, molto spesso queste dichiarazioni sono ingannevoli se non c'è dentro le aziende una forza lavoro dei lavoratori che possono emanciparsi e possono organizzarsi per rivendicare diritti e condizioni di lavoro migliori. È arrivata all'ultimo atto la stagione della Camerata Strumentale Città di Prato. Domani alle 21 al Teatro Politeama si terrà il concerto conclusivo che sarà dedicato ai 160 anni della Fondazione della Croce Rossa Italiana, i cui membri saranno ospiti speciali della serata. L'orchestra sarà diretta dal maestro Jonathan Webb, ospite speciale la giovane pianista pratese Beatrice De Maria. È il 160esimo anniversario della Fondazione della Croce Rossa Internazionale e quindi vengono fatti vari festeggiamenti a livello italiano e a Prato si traduce in questa collaborazione, in questo dialogo tra la Camerata Strumentale e la Croce Rossa Internazionale Sezione di Prato con la dedica speciale di questo concerto a tutti i volontari e a tutti i valori della solidarietà che Croce Rossa persegue e anche Camerata Strumentale persegue attraverso la divulgazione e la diffusione della musica d'arte. Cosa dovremmo aspettarci da questa serata? Beh, questa serata è la serata conclusiva di una stagione che è stata bella ed intensa e vedrà pagine importantissime, un omaggio a Busoni nel centesimo anniversario della scomparsa e il bellissimo e popolarissimo concerto di Grieg fatto da una giovanissima pianista pratese Beatrice De Maria che abbiamo il privilegio di farla debuttare con noi e poi concluderemo con la Quinta Sinfonia di Sibelius che prosegue il nostro percorso di conoscenza di quest'autore voluto dal nostro direttore il maestro Jonathan Webb. Sono emozionatissima, chiaramente sono nella mia città, questo teatro lo conosco benissimo e ho cantato anche su questo palco ma mai suonato e soprattutto sono emozionatissima di condividerlo con Jonathan Webb, direttore e l'orchestra appunto della nostra città. Cosa rappresenta per te la musica? La musica è sempre stata per me la mia più grande passione fin da quando ero piccina ed è per me lo strumento più grande di comunicazione e di condivisione. Cosa ci farai sentire? Suonerò il concerto di Grieg appunto per pianoforte e orchestra, un concerto divertente, fresco e che alterna momenti appunto di grande potenza, momenti invece più lirici, più nostalgici, anche malinconici e un concerto a mio avviso bellissimo. Sarà per me un momento di grande gioia e soprattutto anche di divertimento e di grande emozione e spero di poterlo condividere con il pubblico e spero che al pubblico questo possa arrivare. Domenica 12 maggio, solennità dell'ascensione, l'Arce Confraternita della Misericordia di Prato organizza come ogni anno una gita pellegrinaggio al chiesino del Risorto a Cavagliano. Il luogo si potrà raggiungere partendo dai bifolchi per una camminata a piedi per arrivare al chiesino in tempo per la messa in programma alle ore 11.30 che sarà celebrata dal Cappellano della Misericordia Don Gino Calamai. Al termine della celebrazione eucaristica, come da tradizione, l'Arce Confraternita offrirà a tutti i presenti un piccolo ristoro. E adesso siamo giunti alle previsioni meteorologiche, come sempre a cura del Consorzio Lamma. Buongiorno e ben ritrovati dalla Sala Meteo del Lamma. La perturbazione rapida che ci ha interessato nella giornata di ieri e si sposta sul sud della nostra penisola migliorano le condizioni atmosferiche sul centro nord e anche sulla nostra regione. Rimane tuttavia un po' di variabilità, un po' di velature in transito nel pomeriggio e qualche addensamento più consistente sulle zone orientali, meridionali e lungo tutta la dorsale appenninica, dove saranno possibili di brevi e locali piovaschi. Le temperature già in rialzo, fino a 22-24 gradi centigradi di massima, venti deboli o moderati, da nord-est nell'interno, di maestrale, lungo la fascia costiera, con mari poco mossi o localmente mossi a largo e a sud dell'isola d'Elba. Per quanto riguarda la giornata di domani, giovedì, ancora un po' di variabilità al mattino, un po' di addensamenti soprattutto sulle zone appenniniche e al centro-sud. Nel pomeriggio le schienite un po' più ampie, soprattutto sulle zone di nord-ovest e su parte delle zone settentrionali, ancora qualche addensamento in più sulle province di Arezzo, Siena e Grosseto, ma senza precipitazioni. Temperature stazionarie, un ulteriore leve di alzo, soprattutto lungo la fascia costiera. Domani si faranno sentire i venti dai quadranti nord-orientali, i venti di grecale moderati, con rinforzi soprattutto sui rilievi e in prossimità delle costa centro-meridionale. È tutto, grazie per l'attenzione, una buona giornata. Siamo in conclusione, il telegiornale torna stasera come sempre alle 20.30. Vi lasciamo alla stoffa di Prato in compagnia di Arianna Di Rubba e dei suoi ospiti. Grazie dell'attenzione, buon pomeriggio.